E buongiorno a tutti, oggi è un giorno un po' particolare, lo sappiamo, no? Il mio compleanno, faccio 33 anni, sono strafelice perché oggi è un giorno, francamente, proprio tutto mio. Con semplicità voglio trascorrere questa giornata nel pensare che ci sono persone che stanno vicino a me, che hanno fatto un percorso con me, dicendo bla 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 bla. Allora, volevo dire solamente questa cosa qua, che ora che non c'è più Osama Bin Laden, qualcuno che manda dei video messaggi, pur ci dovrà essere, quindi questa voglio essere io. Voglio veramente ringraziare tutti, tutti dal primo all'ultimo, anche quelli che non si ricordano che oggi è il mio compleanno, e ringraziarli tutti perché sono le persone che fanno sentire gli altri vivi. Quindi non c'è questo discorso che tutti dicono, eh, devi stare bene, no, no, sono gli altri, sono l'unica gratificazione. Perché la solitudine è una cosa che fa malissimo, fa male a tutti, e a me in particolar modo che sono iper sociale, eccetera, eccetera. Quindi, boh, ve lo volevo dire, grazie, ma grazie davvero tanto, sono proprio felice, grazie davvero, vi voglio bene. Grazie.